Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla guida di New Super Mario Bros. U Allora, potete tastare, partiamo proprio dall'inizio, questo è il video del primo mondo Allora, potete, partiamoci un po' di nuovo, proviamoci un po' di nuovo, questo è il video del primo mondo Grazie a tutti. 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 Oh yeah. Mario time. Mario! Mario! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.